Sì, la vita è tutto un quiz, e se indovini quante emozioni, e che col quiz che si fanno i milioni, e viva le televisioni! La notte italiana c'è una luce blu, in ogni scala che brilla l'attimo, io nella vita comando fino a quando, ho sento in mano il tuo telecomando. Acao, meravigliao, alla notte e no, acao, non è costa, dici, dici. E vengo e rimango lì, ma prima faccio il cacao. One, two, three, Renzo Arbore, five, four, six, Renzo Arbore, seven, eight, nine, Renzo Arbore, yes, e Renzo Arbore, yes, Renzo è quello che prima è andato alla radio, e dopo è andato alla tv, ha fatto tante belle trasmissioni, e ci ha sollezzato con il suo diumor. Renzo Arbore, rinzo 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 Arb Metti che ti presenti a una ragazza e dici suono bene il clarinetto Metti che lei capisce tutta un'altra cosa e ti fa subito l'occhietto Metti che sei un artista puro e questa cosa non fa certo un bel effetto Il clarinetto, quello che fa filufi, filufi, filufi Vengo anch'io dopo il DG, vengo anch'io dopo il DG, vengo anch'io dopo il DG Ma perché? Perché sì! Vengo anch'io dopo il DG, vengo anch'io dopo il DG Vengo anch'io dopo il DG, ma perché? Perché sì! C'è la luna in mezzo al mare, Renzo Arbore già qua Vedo una trasmissione, Renzo Arbore anche lì E vedi che accendo la radio, Renzo Arbore rai, vedi che accendo la tele, Renzo Arbore da tutte quante parte Renzo Arbore in TV, Renzo Arbore in radio Oh mamma, Zuma Zuma Zuma, Zuma Zuma, Zuma Bacca Renzo Arbore, Renzo Arbore da solo, Renzo Arbore in compagnia Obba, abba, hebba Hoedba, abba, abba, abba Abba, 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 abba OHome, juba, juba bacala Rezzo, rezzo, rezzo,amore tv Signore e signori, Gianni buon compagno. Grazie, 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 grazie tante, grazie tante. Elio e le storie tese, Gianni buon, questa parte, Elio e Renzo Arbore. Arbore, perché? Anche il ragazzo? Fa le corna. No, no, siccome sto a Napoli, insomma, sento l'aria e l'atmosfera della città, a me mi sembra un po' una commemocazione, capito? Renzo Arbore, Renzo Arbore, Renzo Arbore, Renzo Arbore, Renzo Arbore. Allora, non era nelle vostre intenzioni, né tu e nelle storie tese. Assolutamente no, i miei ragazzi, guarda, chiediglielo anche a loro, ma... Posso anche dire che io sto facendo anche un nuovo gruppo insieme all'Orchestra Italiana, che appunto è Renzo e le storie mosce, e siamo molti occupati. Grazie, grazie a tutti, grazie tantissimo a Elio e al suo gruppo, pubblicità! Grazie, grazie, grazie.